Ci sono cose capaci di farti cambiare rotta nella vita, di farti veramente svoltare e questo video è una di queste cose. Senti una necessità di cambiamento? Vorresti che le cose andassero in modo diverso? Ti piacerebbe avere una vita più ricca di energia, di emozioni positive? Beh, voglio dirti una cosa, anche se magari non ti fa piacere, dipende veramente tutto da te. E non sto dicendo, non mi permetterei mai di dire che la sfortuna non esiste, che le cose che tu o chiunque altro ha dovuto affrontare nella vita non siano difficili o magari perfino tragiche. Non mi permetterei mai di dire questo. Quello che però dico, e non sono solo io a dirlo, ma ormai è anche una enorme quantità di ricerca che conferma questo, è che nulla e nessuno ti può tirare fuori dalla situazione in cui sei se non te stesso. E possiamo fare anche un passo in più, non solo te stesso in senso generico, ma la modalità con cui interpreti e gestisci la tua vita è, un piccolo segreto che voglio svelarti, non tanto e non solo la tua vita, ma la tua o meglio le tue singole giornate. La modalità con cui tu gestisci te stesso nella singola giornata è ciò che può fare una differenza enorme nel creare una vita ricca di soddisfazioni oppure una vita ricca di frustrazioni e di emozioni negative. Del resto, se ci pensi, le tue giornate non sono altro che la tua vita in miniatura. Di che cosa è fatta la tua vita se non della sommatoria delle giornate che vivi? E se le giornate che vivi sono giornate caratterizzate da rabbia, da frustrazioni, da emozioni negative, da dolori, da tristezza, è chiaro che la somma di queste giornate darà come risultato una vita caratterizzata da queste emozioni. Noi spesso trascuriamo questo aspetto, tendiamo a vedere, ad avere un'idea molto teorica della vita, talmente teorica che facciamo fatica a capire dove sono le leve per effettivamente migliorarla. Le leve sono le giornate, sono le giornate che si concludono e che possono concludersi con un tono positivo o con un tono negativo, sono queste giornate che fanno un'enorme differenza nel risultato finale che effettivamente tu avrai. E le giornate sono qualcosa su cui tu puoi effettivamente intervenire, sono qualcosa di molto concreto e ti faccio un esempio su cosa si interviene che riguarda le proprie giornate, sulle abitudini, sui singoli gesti che ripeti continuamente e per abitudini non intendo soltanto quello che fai, ma intendo anche gli atteggiamenti che adotti. Per esempio ti lamenti, vivi la giornata pensando ai pettegolezzi, critichi e giudichi tutto e tutti, magari anche te stesso in maniera troppo dura, troppo pressante, oppure in un'altra maniera. Ti prendi cura del tuo corpo, delle tue emozioni, sei consapevole delle azioni che fai e delle conseguenze che queste azioni hanno sulla tua vita e sulla vita degli altri. Beh, alla fine ci possiamo girare tanto attorno, ma tutto parte da lì. Se tu riesci a gestire le tue abitudini, i tuoi gesti, i tuoi comportamenti, il tuo livello di consapevolezza, il tuo autodialogo all'interno delle singole giornate, ti assicuro che la tua vita prenderà una piega completamente differente. Indipendentemente, lo ripeto, dalla situazione in cui ti trovi, dalle difficoltà che hai dovuto incontrare, questa è la chiave per riprendere il controllo della tua esistenza. E se vuoi che ti aiuti in questo tentativo di riprendere il controllo della tua vita, beh, puoi scaricare gratuitamente il manuale dei cinque buoni rituali da adottare ogni giorno per migliorare la tua vita e lo trovi nella descrizione di questo video. Grazie a tutti.